Buongiorno a tutti, mi sentite? Benvenuti al Festival del giornalismo di Peugia, se è il primo panel a cui state assistendo e se siete appena arrivati. Parto dal titolo che abbiamo deciso di dare al panel, là fuori c'è un mondo. Noi andremo a parlare di esteri e di come si cerca ad oggi di fare dei reportage all'estero e pubblicarli su dei media italiani. Io mi chiamo Michele Bertelli, vi presento i miei colleghi, sono Emanuele Azucà, Tommaso Clavarino e Catarina Clerici e poi ci si unerà al panel alla fine della nostra discussione anche Renata Ferri che è la foto editor di Io Donna e di Amica e cercheremo di ragionare insieme su come è possibile ancora oggi fare appunto giornalismo internazionale. La nostra particolarità è che noi siamo tutti dei freelance, quindi noi non lavoriamo per nessuna testata e ad oggi probabilmente questo è anche l'unico modo per riuscire a produrre tutta una serie di lavori. Crediamo che sia importante continuare a parlare di esteri e che sia importante andare oltre quelli che sono un po' i topoi, quindi gli Stati Uniti con Trump, l'Inghilterra o le guerre sanguinose del Medio Oriente. Intendiamoci subito, non è che questi argomenti non vadano coperti, è fondamentale coperli, ma secondo noi però in un mondo, questa è una banalità, però in un mondo globale è importante capire anche cosa si muove oltre questioni di orizzonti e quindi che cosa c'è oltre? C'è l'America Latina, c'è l'Africa e c'è l'Asia. Perché dovrebbero interessarci? Parto io con il mio lavoro, io mi sono occupato prevalentemente di America Latina e di Bolivia soprattutto, sono stato diverse volte negli ultimi anni, a partire dal 2013, perché a voi dovrebbe interessare qualcosa e fregare qualcosa della Bolivia. In Italia un referendum del 2011 ha sancito che l'acqua è un bene pubblico essenziale e deve rimanere pubblico per tutti. Beh, se non fosse stato per la Bolivia probabilmente questo referendum non sarebbe esistito, perché l'idea dell'acqua come un bene pubblico e come un diritto nell'epoca moderna viene proprio da una piccola cittadina della Bolivia nel cuore del continente latinoamericano dove in seguito a un tentativo di privatizzazione nel 2001 scoppiarono delle fortissime rivolte, la città venne bloccata per dei mesi interi e furono costretti a ritirare quella legge. E da lì partì tutto quel movimento internazionale che arrivò anni dopo a reclamare alle Nazioni Unite l'acqua come un diritto umano fondamentale e a presentare una mozione perché l'acqua venisse riconosciuta come un diritto umano fondamentale. Quindi in qualche modo la Bolivia ha molto a che vedere con la nostra storia italiana. Questo è il nostro punto di partenza e vi faccio vedere il lavoro che siamo andati a fare appunto nel 2014 chiedendoci che cos'è rimasto di quel movimento per l'acqua pubblica in Bolivia e che cos'è cambiato oggi. È un lavoro che è uscito sull'Espresso nel 2016 e che come tutti gli altri lavori che presenteremo questa sera è assolutamente disponibile gratuitamente, libero online e per cui se sarete interessati potete poi recuperarli e andarli a vedere. Grazie a tutti! 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 ma superiurbania, siguen formandosi comitè, justamente perché il Stato non arriva. Questo è l'unico acqua che abbiamo. Io credo che Morales ha dato la espalda a questa gente. Sono Marcella Olivera e hace 14 anni stiamo in questo stesso lugar pelleando per la difesa del lago. Mi nome è José Barro, sono membro del direttore e socio della cooperativa Co-Plan Limitada del Plan 3000 del municipio di Santa Cruz della Sierra, Bolivia. Bolivia Savidea e Waterworm non è un semplice documentario e nessuno dei lavori che vi faremo vedere sono dei formati come vi potete immaginare perché sono tutti lavori che cercano di mischiare foto, video, testo in modo che sia innovativo multimediale e che vada a colpire l'attenzione di quelli che sono gli utenti. Sono tutti lavori pensati per il web e una delle cose che condividiamo e che pensiamo è che per rendere questi temi più interessanti più appetibili anche per gli utenti, per i lettori, per gli spettatori bisogna inventarsi qualcosa di più. Con Bolivia Savidea e Waterworm dal nostro punto di vista quello che io e il mio team abbiamo cercato di fare è stato giocare sull'interattività. Quindi questo non è un documentario che uno si siede e lo guarda dall'inizio alla fine e lo fruisce direttamente in maniera passiva ma invece spetta all'utente e allo spettatore compie una serie di scelte per cui è l'utente e lo spettatore che deve scegliere qual è il personaggio che vuole seguire. Se gli interessa seguire Marcella che è un attivista per la difesa dell'acqua o Jacinto Sirpa che è un leader indigeno che vive nelle montagne dell'Altipiano oppure José Barros che viene da uno dei quartieri più svantaggiati di Santa Cruz. Spetta a voi che lo vedete fare questa scelta e decidere dove loro andranno e allo stesso modo spetta a voi capire se ci sono degli approfondimenti che volete fare se c'è qualcosa di più che volete capire c'è tutta una sezione per esempio di dati che serve per dare affondamento anche scientifico se volete alle cose che vengono dette all'interno del documentario ed è chiaramente tutto completamente interattivo e spetta appunto all'utente fare una serie di scelte. Questo tipo di lavori questo e gli altri che vedete oggi chiaramente non sono dei lavori che possono essere fatti singolarmente sono dei lavori che hanno dietro un team di persone che mettono insieme anche delle competenze diverse per cui ci sono le competenze classicamente giornalistiche che quelle non per meno mai ma servono anche abilità e skill di videomaking di data journalism programmazione con il computer social media insomma ognuno di noi poi dopo le ha composte e costruite in maniera diversa. Dopo questo lavoro sull'acqua con i miei colleghi che sono uno spagnolo Javier Savas e uno tedesco un giornalista tedesco che si chiama Felix Lilil siamo ritornati un'altra volta in Bolivia nel 2005 nel 2015 occupandoci di un tema completamente diverso ovvero di mortalità materno infantile. Questo perché in Bolivia ogni 100.000 parti ci sono 206 donne che muoiono e uno dei paesi è il terzo paese con la tassa di mortalità materna più alta di tutta l'America Latina e dà dei livelli che sono paragonabili tranquillamente a quelli dell'Africa subsahiana. Quello che noi abbiamo fatto con un approccio simile ma leggermente diverso è stato andare di nuovo in quelle terre e seguire quella che noi potremmo definire una mammana loro le chiamano parterasse ovvero donne che si sono occupate della nascita dei bambini nelle comunità indigene lontano di qualunque tipo di struttura ospedaliera senza avere alcun tipo di formazione medica e con lei abbiamo passato un paio di un paio di settimane vedendo il suo lavoro. E questo è Motherland Children First il trailer è in inglese perché è uscito su internazionale ma sotto un'altra forma di cui poi vi parlerò e vi accenderò perché è un'altra caratteristica di questi lavori. è un'altra caratteristica è un'altra caratteristica è un'altra caratteristica il rumore dell'acqua che c'è in sottofondo veniva ovviamente dalla parte di prima come vi dicevo appunto l'interattività per noi è anche in questo caso è stata molto importante però dato che il tema era molto pesante abbiamo pensato che potesse spaventare un eventuale tente che ci si approcciava quello che abbiamo cercato di fare è stato renderlo un po' più giocoso e quindi appetibile al pubblico creando quello che è sostanzialmente una specie di piccolo videogioco in cui uno segue Donia Leo che è la nostra mamma indigena all'interno dell'ospedale e poi gioca con tutti i vari personaggi delle stanze uno è libero di entrare e vedere qual è il contenuto di quella particolare stanza questo lavoro ed è un'altra di queste caratteristiche in realtà ha questa forma interattiva per l'edizione inglese e spagnola mentre invece nella sua edizione italiana è uscito su internazionale e gli editor di internazionale hanno pensato che fosse più interessante avere una forma invece più sobria più canonica quindi un articolo lungo un reportage lungo alternato con dei video e con dei grafici delle mappe che potessero aiutare a comprendere la situazione questa è un'altra particolarità dei lavori nel senso che non sono dei prodotti unici molto spesso ma sono composti da più uscite possono essere coniugati con dei formati diversi un'altra delle caratteristiche chiaramente è che questi lavori costano e costano tanto e ad oggi soprattutto quando un mestiere come quello del corrispondente è completamente scumato oggi non esiste più il corrispondente all'estero se non in casi super eccezionali e in cui i budget dei media sono sempre più esicati hanno molto molto poco da investire in innovazione è fondamentale andare a trovare le risorse da altre parti nel nostro caso tutti questi risorse tutti questi avori sono stati finanziati attraverso un bando pubblico gestito dallo European Journalism Center che si chiama Innovation in Development Reporting che finanzia progetti di reportage innovativi e multimediali nei paesi in via di sviluppo per cui se poi qualcuno di voi dovrà essere interessato ne possiamo parlare o possiamo anche approfondire vi faccio vedere solo un pezzo di un ultimo video e poi passo la parola a uno dei miei colleghi a uno dei miei colleghi a uno dei miei colleghi un progett copy Non poteva nascere la babita, facile. Ora, cosa faccio? Io solito non potevo. Tu bebe si sta movendo, il terzo clara. Tienes nove? In questa sala con interculturalità e visto, più aiutiamo, gli dottori mi aiutano. Abra con gli dottori speciali, con un'impiede mira, e con la sua famiglia, e con partire, siamo attenti qui. Ellos mi aiutano, mi insegnano, io anche le insegno. Grazie, grazie, io non ho forza. Doctore, doctore, doctore. Doctore, faccio la silla. Tranquilla. Sì, sì, sì. Un trapo, rapido. Sì, non mi piace. Sì, tranquilla. Sì, sì. Io pensavo che fosse dentro. Sì, perché... No, è un trapo, rapido. Listo. È un uomo? O vuoi che vuole un uomo? Aggi le facciamo la cucina. Tutore, morti sale, mi ove. Ora, cortan, tre ruillos rulliari, poi, afinati loti, e poi poi un altro... Ese cortan, tutto è vivissimo, così, è flotato e vivino tranquillo. Volevo partire dalle varie incarnazioni che può avere uno di questi prodotti per dare la parola a Emanuela Zuccalà, anche lei giornalista freelance, regista, collaboratrice soprattutto sulle tematiche femminili, collaboratrici di vari media internazionali e in Italia del Corriere e Dio Donna e volevo appunto passarle la parola chiedendo innanzitutto perché l'Africa e che cosa ci può interessare dell'Africa nella tua visione, perché le donne africane interessano anche noi, come avete realizzato il vostro lavoro, come avete gestito il vostro team e come vi siete approcciati a questo discorso appunto dei più formati diversi per coniugare una storia e per realizzare una storia. Scusate, buonasera a tutti e grazie di essere qua ad ascoltarci. Allora, perché l'Africa? Beh, l'Africa è il continente, il grande reietto degli esteri italiani. C'è un blog molto interessante gestito da giornalisti africani che si intitola ironicamente Africa is a country, perché effettivamente, soprattutto in Italia, ma non solo, l'Africa viene trattata come una nazione, non come un continente, cioè si parla di Africa in maniera sempre spesso, insomma molto generica, quando invece ci sono 54 stati o 56, perché due ancora sono con uno status politico incerto, ci sono oltre 3.000 gruppi etnici, non so quante lingue, insomma una grande varietà. E poi soprattutto di Africa si parla tanto delle crisi umanitarie che assolutamente ci sono e purtroppo sono in crescita, insomma le guerre, le guerriglie, le guerre civili, la siccità nel corno d'Africa è ancora molto grave, però insomma l'Africa chiaramente, essendo una realtà complessa, è tante altre cose. Noi con ANCAP, che è appunto come vedete la guerra delle donne contro le mutilazioni genitali femminili, siamo anche noi andati a toccare un tema che è una ferita dell'Africa, perché le mutilazioni genitali, per chi non lo sapesse, ve lo dico molto in breve, sono una pratica tradizionale in uso in almeno 30 paesi del mondo, perché i dati disponibili ce li abbiamo solo su 30 paesi del mondo, di cui 27 stanno nel continente africano. È una pratica che appunto consiste nel tagliare i genitali delle donne con diverse tipologie, diverse forme, la forma più nota forse, più cruenta è l'infibulazione, e chiaramente è una pratica che comporta delle conseguenze sanitarie molto gravi, i paesi con un'alta mortalità al parto sono anche quelli dove le mutilazioni genitali sono più diffuse. Si tratta di un modo per controllare il corpo delle donne, per sottometterle, e la mutilazione genitale innesca, si inserisce in un circolo vizioso di sottosviluppo, perché le bambine quando vengono tagliate, anche se hanno 10-12 anni, sono considerate già donne, quindi vengono fatte sposare, per cui matrimonio precoce e forzato, vengono tolte da scuola, per cui analfabetismo femminile, e quindi è un tema che incrocia tante altre problematiche sui diritti delle donne in Africa. Il nostro approccio è stato però di andare a vedere quelle esperienze locali, piccole e grandi, di donne che si stanno ribellando a questa tradizione, un po' seguendo così un'idea per cui non è vero che l'Africa viene salvata soltanto dalle grandi agenzie umanitarie internazionali, dall'ONU o chi per loro, ma esistono dei movimenti femministi e femminili in Africa, addirittura dagli anni 70, che si battono contro le mutilazioni genitali e in tanti casi ci riescono, perché tanti stati africani hanno delle leggi che criminalizzano le mutilazioni genitali. Noi abbiamo raccontato quattro esperienze, in particolare una in Etiopia, in una valle molto sperduta dalla regione di Oromia, in una comunità musulmana dove si praticava l'infibulazione, dove un gruppo di donne molto agguerrite stanno riuscendo poco a poco a debellare questa pratica. Due esperienze in regione molto belle, dove in sostanza le donne adulte salvano le bambine, a volte anche accogliendole in casa, strappandole letteralmente da famiglie che le vogliono far tagliare e quindi far sposare. E poi siamo andati in Somaliland, che è un paese bizzarro, diciamo così. Somaliland è una repubblica autoproclamata si indipendente nel 91 dalla Somalia, non riconosciuta da nessuno, anche se hanno delle relazioni diplomatiche con molti paesi, soprattutto con il Regno Unito, infatti quella era la Somalia britannica, però insomma Somalia e Somaliland sono la patria dell'infibulazione, cioè quella pratica che consiste nel tagliare tutti i genitali esterni della donna e nel cucirli, per cui immaginate che razza di vita possono fare le donne con questa ferita. Il 98% delle donne in Somaliland ha subito questa cosa, questa cosa orrenda. L'abbiamo fatto appunto con un formato multimediale, ma non solo, nel senso che Ancat, chiaramente Ancat è un progetto collettivo, come tutti quelli che vengono presentati qui. Io sono la giornalista di turno, mi sono occupata della parte di dati, Simona Ghizzoni è una fotografa, appunto autrice di queste immagini, che intanto vi faccio, vediamo se girano, questo è un video. Zona, che è un'associazione culturale non profit, che sostiene e promuove progetti giornalistici con un occhio particolare sull'immagine, sulla fotografia e sul video. E poi insomma Alessandro D'Alfonso ha fatto le grafiche, il web development, insomma bisogna essere in tanti, chiaramente, per fare queste cose. E con Ancat è stato un lavoro molto complesso perché abbiamo deciso di fare una vera e propria campagna di informazione e sensibilizzazione su questa tematica, anche perché non è una tematica così lontana. E qui rispondo alla tua domanda che tipo di interesse può suscitare un tema così sui lettori italiani, perché anche in Europa si stima la presenza di, almeno, perché sono tutte stime molto vaghe, prese con criteri diversi a seconda dei paesi europei, quindi una stima per difetto, quindi almeno 500.000 donne immigrate da paesi a tradizione scissoria vivono in Europa, in Italia, in particolare gli ultimi dati che, anzi, abbiamo presentato in occasione di una presentazione di Ancat, li abbiamo presentati insieme all'Università di Milano Bicocca, gli ultimi dati parlano di circa 50.000 donne in Italia che hanno subito questa pratica e che vengono soprattutto dalla Nigeria e dall'Egitto, che sono due paesi a forte tradizione scissoria, soprattutto l'Egitto. Per cui abbiamo anche inserito una parte europea molto forte, abbiamo fatto una serie di pubblicazioni. Insomma, alla fine abbiamo fatto 27 pubblicazioni in sei paesi. Siamo partiti il 25 novembre del 2015, che è la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Abbiamo concluso il 6 febbraio dell'anno successivo, che è la giornata mondiale per la tolleranza zero contro le mutilazioni genitali. Poi in realtà Ancat continua a vivere ancora adesso, perché quest'anno, sempre in occasione del 6 febbraio, abbiamo avuto altre pubblicazioni. E devo dire che siamo i primi, le prime a esserci stupite di quanto interesse abbia suscitato questo tema. Quindi dicevo 27 pubblicazioni in sei paesi, chiaramente la maggior parte in Italia, su Io Donna, che è il settimanale femminile del Corriere. E il web doc, in particolare, è uscito su Corriere della Sera, è il paese in Spagna, e World Crunch, che è un web magazine con base in Francia, ma in lingua inglese. È molto semplice questo web documentario. Abbiamo proprio seguito un criterio molto lineare e infatti forse si gode addirittura meglio dal telefono che non dal computer. È molto facile da navigare sul telefono. Però la cosa che volevamo fare, abbiamo messo un menu qua ad estra, dove praticamente il lettore può scegliere il proprio percorso di fruizione del web doc, andandosi a prendere il capitolo che gli interessa di più. In totale, per guardarlo tutto, perché poi ci sono appunto foto, testi molto brevi, come vedete, e video, quindi alterniamo anche i video. In totale abbiamo calcolato che ci vuole più o meno un'ora e mezza per guardarselo tutto, però abbiamo notato che molti anche di quelli che sono capitati, che sono venuti su questo sito, su questo web doc, sono ritornati. Quindi abbiamo un'alta percentuale di ritorni. E poi oltre al classico, quindi testi foto e video, abbiamo anche fatto una ricerca sulla diffusione delle mutilazioni genitali femminili, sia in Africa che in Europa, come vi dicevo, con queste mappe interattive e anche qua il lettore può andare a prendersi i dati che gli interessano. Quindi qua abbiamo la diffusione, per esempio, il numero di vittime stimate, quanti e quali paesi africani hanno una legge che criminalizza le mutilazioni genitali, la tipologia, la percentuale per religione. Questo è molto interessante perché non c'entra niente la religione, cioè non sono solo i musulmani a farla, come spesso si pensa, ma anche i cristiani, il grado di istruzione, eccetera, eccetera. E poi per ogni paese, cliccando quindi, questo è proprio più infelice l'Algeria perché non c'è quasi niente, prendiamo l'Egitto. In Egitto c'è appunto questo secondo livello di lettura con i dati per ogni paese e un terzo livello di lettura, leggi di più, per ogni paese abbiamo messo insieme tutti i dati che abbiamo trovato, tutte le notizie anche, anche le notizie di cronaca e alla fine, insomma, una donna simbolo della lotta contro le mutilazioni genitali. E lo stesso abbiamo fatto per l'Europa, che è stato molto più difficile perché, come vi dicevo, sono soltanto stime, ma insomma noi abbiamo messo insieme le stime così chi vuole poi approfondire lo fa. E quindi, non so, per esempio, abbiamo l'Italia e anche qui, e anche qua la cosa sull'Italia. E qua chiaramente le voci sono diverse. Una cosa che volevo dire è che la bellezza, per me, insomma, che la bellezza di questo progetto, ma insomma per tutti noi che ci abbiamo lavorato, è che è un progetto che continua a vivere, nel senso che l'abbiamo un po' trasformato in un progetto diffuso. Non è soltanto una serie di pubblicazioni, non è soltanto un webdoc, ma è stato anche una mostra fotografica, appunto con le foto di Simona Ghizzoni. È stato anche un breve documentario di 20 minuti che adesso sta girando anche per festival internazionale, che addirittura ha vinto un festival in Italia. E poi adesso, insomma, stiamo anche lavorando a un libro. Abbiamo organizzato delle conferenze, anche istituzionali, andremo anche al Parlamento europeo a Bruxelles a maggio. Quindi, insomma, abbiamo cercato anche con degli eventi, diciamo così, offline, di parlare del progetto e di creare interesse su questa tematica. E quindi, insomma, riuscire a far vivere un progetto per ormai un anno e mezzo, un progetto giornalistico, ci è sembrata un'esperienza molto importante, è un modello, diciamo, di successo da cercare di ripetere. Non so se ho tempo di far vedere il trailer. Ancora tre minuti. Ancora tre minuti, per cui, a grande richiesta, no? Dunque, dove lo ritrovo adesso? Solo, questo è il trailer del documentario, giusto perché così anch'io, insomma, vi faccio vedere un video, però non c'è l'audio. Ancora tre minuti. Ancora tre minuti. Ancora tre minuti. Ancora tre minuti. La mia vita è la mia vita e la morte. or both, that's what FGM is. Tommaso Clavarino, anche lui giornalista freelance, fotografo freelance, pubblicato con Newsweek, Al Jazeera, Spiegel. Tommaso invece è andato sulle coste dell'Asia occupandosi di come le navi vengono smaltite e di qual è l'impatto di queste operazioni sull'ambiente. Ecco Tommaso, volevo allora partire, che cosa ti ha portato, da dove nasce l'idea di questa storia, che cosa ti ha portato là e poi quali anche difficoltà avete dovuto affrontare nel momento in cui l'avete pubblicata, perché tutti questi lavori, stiamo qua a raccontare le cose belle di questi lavori, ma spesso ci sono anche delle difficoltà. Sicuramente, ciao a tutti, cosa mi ha spinto ad andare a raccontare cosa succede sulle coste del Bangladesh e dell'India relativamente allo smantellamento di navi e penso principalmente la curiosità, che penso che sia la base di quella che è la professione, che sia del giornalista, del fotografo, del videomaker, ed è quella che mi spinge sostanzialmente per lo più a provare per quanto possibile, per quanto è la mia capacità, di raccontare storie, soggetti, diciamo poco convenzionali o quantomeno non mainstream. Non so quanti di voi sappiano cos'è lo ship braking, magari molti ve lo sanno, io non lo sapevo fino a tre anni fa. Sostanzialmente si tratta appunto dello smantellamento di navi cargo, petroliere, che vengono spedite per lo più da paesi europei in paesi in via di sviluppo, dove vengono appunto smantellate e riciclate senza alcuno standard di sicurezza per i lavoratori, per l'ambiente e sostanzialmente per lo più spiaggiate sulle spiagge, sulla battigia. Io appunto grazie a un grant dell'AGC, e mi sembra anche abbastanza doveroso sottolineare che nessuno di questi progetti, non mi ricordo se l'abbia già fatto Michele, comunque nessuno di questi progetti sarebbe stato possibile senza un grant internazionale. Perché comunque dietro questi progetti ci sono professionalità diverse, sono team composti a due, tre, quattro persone che io con i miei ricavi da freelance non potrei assolutamente permettermi. Quindi sostanzialmente sono andato in Bangladesh, in India, e ho provato a raccontare un po' quello che ci sta dietro questa pratica. Magari alcuni di voi hanno visto le foto di queste navi cargo lasciate appunto sulla spiaggia, e io mi sono chiesto, sì effettivamente va bene, visivamente sono interessanti e molto impattanti, però cosa c'è dietro? Allora ho provato a raccontare un po' la vita dei lavoratori, gli impatti sui villaggi di pescatori, ed è venuto fuori appunto questo web doc, che è un misto equamente diviso diciamo fra video, testo, fotografia e una grossa parte di dati. È stato pubblicato in Italia dal Corriere, dal Jazeera e dal Paese in Spagna, e poi pezzi vari o solo i video sono stati pubblicati in Svizzera, parte del reportage fotografico è stato pubblicato in Danimarca, in Germania, comunque ha girato abbastanza. Adesso a giugno io e il mio socio di Malaffari in questi viaggi andremo a Bruxelles, al Parlamento, dove organizzeremo una mostra interattiva, un'esibizione interattiva su questo tema. Ve lo faccio vedere molto brevemente, intanto poi se siete interessati, se siete più smanettoni di me potete andarvelo a vedere voi. Sostanzialmente c'è un video introduttivo nel quale cerchiamo di raccontare un po', di introdurre un po' la tematica, ma vorrei andare più che altro alla parte di dati, che mi sembra quella più interessante, almeno perché nessuno l'aveva mai fatto. Abbiamo raccontato, appunto, abbiamo diviso tutto in varie storie, cercando di andare ad analizzare un po' quelle che sono le problematiche principali legate a questa tematica, quindi le morti nei cantieri, il fatto che il 25% dei lavoratori di questi cantieri in Bangladesh e in India sono minorenni, perché costano di meno, perché soffrono meno la fatica e il freddo di noi, no, il caldo e le intemperie. Abbiamo provato a raccontare la storia dei villaggi di pescatori, che a causa già in Bangladesh, già un paese martoriato dai cambiamenti climatici, dall'innalzamento del livello del mare, sostanzialmente le spiagge vengono rubate da questi cantieri che tolgono quel poco di protezione che ha la terra lì e quindi che va sostanzialmente a aumentare ulteriormente il pericolo, la sommersione di questi villaggi dall'acqua, abbiamo raccontato un po' di vite di pescatori, di quanto questa attività va da inquinare il terreno, le spiagge, l'acqua, le falde acquifere, il mare, di come alla fine chi viene impiegato in questi cantieri sono per lo più migranti e poi abbiamo lavorato sui dati. Siamo riusciti ad ottenere l'accesso a un dataset decisamente corposo, erano quasi 20.000-30.000 dati, e siamo riusciti a mettere insieme questi dati. Dal 2009 al 2016 siamo riusciti a tracciare i percorsi delle navi dall'Europa, dall'America, dall'Africa, dall'Oceania, verso Pakistan, India e Bangladesh, che sono i paesi nei quali sostanzialmente le navi vengono smantellate di più. Li abbiamo divisi per continenti, per paesi d'ingresso, con tutti i dati, sono migliaia di navi all'anno. E uno si chiede se tutto questo è legale? Ovviamente no, c'è una legislazione internazionale che regolamenta lo smaltimento di rifiuti tossici e i vari viaggi che le navi possono o non possono fare nel mondo. Ma c'è un, ovviamente, come spesso succede, la legislazione internazionale ha dei buchi e il buco principale è che basta cambiare la bandiera della barca e tutta una serie di paesi che non sono, diciamo che non fanno parte di questa convenzione, di varie convenzioni e quindi sulle quali non ricade la legislazione internazionale, regalano, offrono, affittano la propria bandiera e questo fa sì che i paesi europei, l'Italia in primis e le compagnie italiane in realtà possano continuare a mandare navi cargo, petroliere, inquinare e a distruggere l'ambiente nel sud-est asiatico senza sostanzialmente ripercussioni illegali. Siamo riusciti a tracciare questi cambi di bandiera e abbiamo realizzato una visualizzazione che fa vedere come, poi adesso qua è piccolino e non si vede molto bene, non si vede con gli stati, comunque sostanzialmente a sinistra sono gli stati nei quali vi sono i proprietari di queste barche, di queste imbarcazioni, sono Grecia, Cina, Germania, Italia, Stati Uniti e a destra tutte le bandiere che vengono affittate sostanzialmente per poter smantellare liberamente le navi in questi paesi. E poi, ultima cosa, a livello di dati abbiamo fatto un esempio di come... di quelli che sono i passaggi per poter mandare queste navi dall'Europa o dall'America che sia sulle spiagge, sulle spiagge del sud asiatico. Ed è sostanzialmente, come spesso avviene, un passaggio, una serie di passaggi di scatole cinesi con società offshore che prendono, acquistano la nave, la rivendono a un'altra azienda, cambiano la bandiera con un'email, perché per cambiare bandiera basta mandare un'email e poi da lì vengono tranquillamente spedite. Per quanto riguarda la domanda di Michele sulle difficoltà poi di pubblicare un lavoro del genere, beh, dipende molto chi è il tuo interlocutore dalla mia esperienza. Nel senso che questo è il secondo lavoro multimediale che realizzo, avevo già realizzato uno nel 2015 sempre con un grant dell'AGC, e secondo me c'è una differenza abissale, mi spiace dirlo qua, nel senso, e mi spiace se ci sono degli editori, dei redattori di media italiani, ma c'è la differenza abissale per come vengono trattati e come i media internazionali si pongono nei confronti di prodotti di questo tipo, rispetto ai media italiani. A parte una questione legata alle competenze, nel senso, con i media stranieri, non so, faccio un esempio, con i media come può essere la Jasira, si lavora, ovviamente il lavoro è stato nostro, il design è stato nostro, ma si lavora insieme, si cerca di sviluppare insieme il lavoro, vengono dati consigli, si accettano, non si accettano, ci si confronta. Per quello che è stata la mia esperienza in Italia, non è così. Molto spesso le redazioni non hanno le competenze per poter trattare prodotti multimediali, che poi, obiettivamente, io sono abbastanza analfabeta in materia, ma non mi sembra nulla di clamorosamente impossibile da trattare, e a volte sembra quasi che ci sia, facciano quasi un favore a pubblicarlo rispetto ad altri, diciamo che è sicuramente più gratificante con questo genere di prodotti multimediali lavorare con l'estero. Poi, per quanto riguarda la pubblicazione, dipende appunto molto dal sapersi muovere, ovviamente dalle conoscenze che si hanno all'interno dei media, e da quanto la storia può essere interessante e vendibile. Questa ovviamente è una tematica non facile, ma non facile perché appunto non è legato a una breaking news, non è legato a un tema da prima pagina, ma fortunatamente si è riusciti a farlo girare, appunto adesso andrà al Parlamento europeo, e quindi comunque a far girare abbastanza il lavoro. Grazie, Tommaso. Sì, effettivamente... Diciamo che una, l'esperienza abbastanza comune, è che molto spesso i media italiani, anche quando possono avere la volontà, ovvero le redazioni vogliono pubblicare dei prodotti multimediali, non sempre si sono ancora equipaggiate adeguatamente per poterli ricevere e per poterci lavorare in maniera snella, per cui anche, non è solo una questione di non volontà, ma spesso anche di organizzazioni, quella che è la struttura più generale. Passiamo ora, ritorniamo in Africa, lo facciamo con Catarina Clerici, anche lei, giornalista freelance, appunto, foto editor per Il Time, Viva New York, si è occupata di un progetto in Africa per quello che riguarda l'energia e i blackout, e lo ha fatto coinvolgendo anche le comunità locali in una maniera interessante, che a me piacerebbe che Catarina raccontasse. Sì, allora, vabbè, grazie Michele, grazie a tutti di essere venuti. Allora, come dicevi, io appunto sono partita da un'idea molto semplice, in realtà, per questo progetto, che si chiama The African Energy Project, e tra poco vi farò vedere la versione italiana che è uscita sulla stampa, mentre quella, diciamo, il progetto di per sé vive su un sito, diciamo, a sé, e poi è stato pubblicato dal Jazeera e da un sito ganese. Ho lavorato al progetto con due colleghi, Marissa Schwartz, che è una collega americana, e Kevin Taylor, che è un collega ganese, e, appunto, come dicevo, è tutto partito da un'idea molto semplice, ovvero cercare di raccontare un dramma quotidiano che, appunto, accomuna tutti i ganesi, ovvero le interruzioni di corrente. In Ghana queste interruzioni continue vengono chiamate doomsor e, praticamente, avvengono più volte in una giornata e, molto spesso, dal 2012, praticamente, quasi ininterrottamente per settimane in fasce orarie predefinite, praticamente, dallo Stato per risparmiare energia. Quindi, questa, appunto, poi, non è una, diciamo che non è una particolarità del Ghana, prettamente, ma di tutta, poi, l'area dell'Africa occidentale e di tantissimi paesi in via di sviluppo. Comunque, noi, appunto, partendo dai blackout, abbiamo deciso di umanizzare una storia che, di per sé, non è proprio tra le più, forse, curiose e vendibili, soprattutto, alle pubblicazioni italiane e non, ovvero sviluppo, sviluppo energetico e, insomma, pannelli solari, in poche parole. Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di fare, appunto, in questo, ovviamente, il multimedia aiuta parecchio, è fondamentale. Abbiamo cercato di produrre un lavoro che fosse interattivo, molto visivo e che non solo mostrasse, appunto, andasse a raccontare quali siano, per esempio, le fonti energetiche in Ghana, perché non funzioni, no? fondamentalmente il sistema che si trova, appunto, in... che, scusate, ogni tanto mi partono degli inglesismi, no, il sistema, appunto, che hanno messo in piedi, perché non funzioni, ma soprattutto, quale sia la routine dei ganesi, no? Come i ganesi fanno, facciano fronte ogni giorno a questi blackout, perché non c'è soltanto da pensare a, appunto, le difficoltà che si possono avere in un ospedale, piuttosto che in una prigione, piuttosto che, appunto, a gestire delle scuole, ma anche nel piccolo ogni ganese si sveglia al mattino e non si può stirare la camicia prima di andare al lavoro, quindi è proprio, partendo anche dal piccolo che poi dopo, e dal quotidiano che poi dopo noi abbiamo provato a raccontare la storia in modo più interessante e soprattutto a cercare di coinvolgere un lettore che, o un utente, insomma, uno spettatore che di per sé non avrebbe particolare interesse in quello che succede in un altro continente, in, appunto, qualcosa che abbia a che vedere con l'energia. E adesso vi, appunto, vi mostrerò, forse cominciò, vabbè, cominciamo dall'inizio, così facciamo vedere un attimo la musichetta. Allora, che non si sente. C'è l'audio? Dai, raggio, attivo prima, però. Vabbè, alzo. È attivo. Vabbè, non c'è la musica. Meglio. Allora, praticamente, quindi, sono, vabbè, una serie di slide all'inizio più o meno introduttive. Dopodiché, vabbè, faccio vedere l'inizio del video, così... can you imagine walking with a friend and you can't see the friend? and I will come to the other Perché? è il resto, è il resto. È il resto. È il resto. c'è il resto. Avele si è io, ho. Avele si è io, ma è io. Avele si è io. La mia vita è la mia vita, perché la mia vita è la mia vita. A volte hai un giorno senza potere, 24 ore, e poi il prossimo giorno hai il potere per 12 ore, e poi vai nella scurità di nuovo, nessuno piace Domsaw. Quindi produzione energetica, persone, storie personali, soluzioni alternative e social media. Chiunque guardi il web doc può decidere se tuffarsi in queste esperienze personali di businessmen, venditori del mercato, piuttosto che ragazzi che vanno a scuola. Poi alla fine di ogni capitolo si trova, qua adesso salto abbastanza velocemente, comunque appunto come vedete è molto visivo l'impatto. Allora, direi che la cosa più interessante forse di cui parlare sono i social media, anzi, sì, facciamo i social media. Abbiamo deciso, come diceva Michele prima, di includere quelle che sono state le nostre fonti e anche poi dopo la target audience, nel senso che il prodotto poi è stato anche ricevuto molto bene in Ghana. Abbiamo deciso di includere i ghanesi nel discorso, nel senso che i social media ovviamente sono il modo più immediato per dare voce alle frustrazioni per noi come in Ghana. Per cui la cosa divertente, soprattutto per me che non ero necessariamente familiare con la situazione in Ghana, non ero mai stata in Africa occidentale prima di fare questo progetto nel marzo dell'anno scorso, per me è stato divertente vedere quanto loro si sfogassero proprio sui social media e cercassero di lamentarsi con la compagnia energetica piuttosto che con il governo. Quindi per dare un'idea di come questa storia davvero poi si manifesti nel quotidiano, abbiamo deciso innanzitutto di utilizzare delle mappe interattive come questa. Qui abbiamo scelto di mostrare un periodo determinato che era appunto tra maggio e giugno del 2016, ma si può appunto non fare refresh, esatto, trovare dei dati più attuali e praticamente sulla mappa si vede la gente twittare in tempo reale fondamentalmente e poi dopo cliccando su queste zone si vedono i tweet delle persone che si lamentano perché gli ha appena saltata la corrente. Quindi chiaramente si passa ad avere un discorso molto ampio sulla crisi energetica a vedere il tweet del poveretto che stava cercando di leggere il giornale sull'iPad, che aveva l'iPad scarico e non poteva più caricarlo perché era appena saltata la corrente. Immagino che la grandezza dei cerchi sia proporzionale al numero di tweet, quindi più grande il cerchio più grosso il disagio. Esatto, infatti si vede proprio che nell'area di Accra e in tutto il Ghana alla fine era abbastanza attivo. Dopodiché un altro aspetto interessante è questa specie di aggregatore di social media che abbiamo usato una serie di hashtag aggregando da diverse social media, quindi Twitter, Instagram, Facebook e si vedono tutti i commenti legalesi, questo qui che dice Doomsor yesterday, cioè Doomsor ieri, Doomsor anche oggi, non ci posso credere anche quest'anno ma ovviamente continuano i cali di energia e poi uno qua può divertirsi con un sacco di immagini che non c'entrano anche molto. Cinque minuti, forse farei vedere... Il sito principale? Ma forse farei vedere un video che... Sì, secondo me... Aspetta, faccio vedere questo video qua perché o è perlomeno l'inizio che secondo me è la classica storia dei pannelli solari però secondo me fa abbastanza ridere perché è la storia di un professore di una scuola che andando su YouTube ha scoperto come costruire pannelli solari perché era troppo frustrato. Quando la domta started, a first we thought it was going to be something short while... When it was time for maybe computer classes, students were made to read their own books or do their own studies, because we had no lights. Students were getting reasons for not going to pray. Preparation towards the next day, normally it starts 7 to 9 in the night. When the lights are not there, there's nothing you can do, you have to maybe find a place to just relax because you have nowhere to go. So the authority felt, no, it's going to affect the school's performance. So we need to find alternative. After deliberation with the distance, we felt okay that we're going for the solar. But then the cost involved wasn't that easy. We did a lot of research. We went to YouTube and then we saw how things were built. We realized that if we build it ourselves, we can beat down the cost. We went to town, then we asked the prices of this panel, the gadgets. We tried to sell so that nobody goes to fix it on or off. So when the darkness comes, the lights will go off by itself. You may not even know that there are no lights. In the long run, it will be very, very cost-effective for the schools. Because the time may come, even when the lights are soft, the schools will not suffer. Because now schools are using big generators. So sometimes students are made to pay the fuel costs. So we are planning to make sure in about, let's say, 2-3 years time. About 80-90% of the school will be in the solar system. In here we are doing the 20 megawatt solar project. So we have the... Ma no, I'll close here. I'll close on the couch instead of the solar panels. Thank you very much, Caterina. And let's welcome to reach... Chiamo a aggiungerci Renata Ferri, photo editor di Yodon e di Amica, che ringrazio per averci dato il suo tempo e unirsi a questa discussione, con cui appunto vorremmo cercare di capire quanto questi lavori possono essere ritenuti di interesse nel panorama mediatico italiano e che cosa in particolar modo può essere ritenuto interessante. Quindi Renata vorrei proprio partire dal chiederti, secondo te sei d'accordo con questa idea che gli esteri, se non sono per l'appunto i due o tre punti focali attraverso cui si concentra il panorama mediatico italiano, tendono ad essere percepiti ancora in maniera un po' elitista, un po' come qualcosa che in fondo possiamo anche non prestarci troppo attenzione e perché? Buonasera a tutti, grazie di essere qui, ovviamente grazie a Michele dell'organizzazione di questa tavola. No, non sono d'accordo. Io penso che non sono un, diciamo, un vezzo elitario agli esteri. Penso che siano, diciamo, l'essenza stessa del giornalismo. Credo che in Italia ci siano dei ritardi. Siamo un paese che è stato, diciamo, come è sotto gli occhi di tutti negli ultimi vent'anni, la stampa, un po' una tendenza italiana, ma siamo stati molto, diciamo, travolti dalla bagarre politica interna. Diciamo che la politica, con tutte le sue problematiche, ha concentrato molto l'attenzione del giornalismo. In più c'è un altro elemento importante. Fare esteri costa, costa moltissimo. Fare esteri non si possono fare dal desk, anche se si fanno finto appospesso dal desk. Fare esteri vuol dire andare in the field, come si dice, andare sul campo, fare investigazioni, documentazione, reperire fonti e avere i fix. Insomma, tutto quello che tutti noi che siamo qui sappiamo bene. E noi abbiamo attraversato un momento molto, molto, diciamo, la crisi dell'editoria dolorosissima, da cui forse stiamo uscendo, sicuramente ha penalizzato, diciamo, abbiamo una tradizione comunque di inviati di primo ordine. Vorrei spezzare una lancia a favore di questo piccolo paese chiamato Italia, nel senso che, mentre parliamo dei mali del nostro giornalismo, abbiamo visto tre web doc che sono andati rispettivamente sulla stampa, sul Corriere e sul Corriere e anche sulla Legare di Orona. Quindi stiamo, diciamo, stiamo criticando una situazione che invece visivamente restituisce un bel supporto. La ragione vera è quanto questi giornali hanno contribuito economicamente ai vostri web doc, quanto hanno speso per pubblicare dei contenuti che voi avete fatto in modo egregio. Questo è lo scandalo attuale dei vari linguaggi dell'informazione e dei contributi dei freelance. Il giornalismo parla molte lingue, ne deve parlare molte. Diciamo che possiamo fare un sunto e pensare che il giornalismo è fatto di parola, di fotografia, di illustrazione, di infografiche, di grafica, dati che fanno parte poi dell'infografica e di video. Cioè, il giornalismo quando parla bene, quando parla a tutti, quando è empatico, quando è comunicativo, quando è ricco di stimoli per riflettere, ci accompagna attraverso molti linguaggi. Per fare questo i contributi di Clavarino, Clerici, Zuccalà sono fondamentali, ma vanno pagati. Questa è la vera domanda che dobbiamo fare. Segnali positivi ce ne sono. Uno studio del 31 marzo, rivelato dal New York Times, dice che hanno messo insieme una squadra di sette giornalisti. Questo gruppo si chiama Giornalismo che si distingua, la traduzione italiana. Il loro obiettivo è, entro il 2020, studiare delle modalità per raddoppiare i ricavi digitali, che vuol dire raddoppiare gli abbonamenti. I primi dati che sono usciti il 31 marzo di questa task force di sette giornalisti di qualità, per giornalismo che si distingua, rivelano che da un primo studio i lettori abbandonano le notizie ordinarie, che vuol dire quelle che hanno già avuto dalla televisione, dai social media, dalla rete. Cioè l'ordinario, il day by day. Ma vogliono contenuti originali e di approfondimento. Il secondo dato ancora più interessante è che i lettori non sono interessati a contenuti che non hanno informazione visuale. Quindi video e fotografia. 4 aprile, ieri è uscita una nota del New York Times che dice che il New York Times sta rivedendo le tariffe dei compensi per i contributi visuali, alla luce di questo studio. Quindi dei segnali che arrivano sempre, certo dal New York Times, ma è lì e su questo rimane sempre il nostro faro, dei segnali in questo senso ci sono. Quindi le cose stanno cambiando. Stiamo uscendo da una crisi che è stata abbastanza paralizzante, che non riguarda solo l'Italia, riguarda la Francia, riguarda la Spagna, riguarda la Grecia, riguarda il Portogallo, cioè riguarda tutta l'Europa in modo significativo. Probabilmente un po' meno la Germania, ma comunque è stata una grande crisi quella che ha attraversato l'editoria europea. Stiamo uscendo da questa crisi e i dati sono sotto gli occhi di tutti, stanno finendo gli stati di crisi con cui le case di crisi sono sopravvissute in questi anni. C'è un rilancio dell'occupazione, ci sono delle strategie in questo senso. Insomma, forse una luce si vede. Partiamo anche da quello che abbiamo, però, e ripeto il concetto che abbiamo visto, tre specchi usciti sulle nostre testate. Quindi gli esteri costano. Bisogna tornare a fare investimenti nell'editoria e bisogna far sì che questi investimenti non provengano solo dalla pubblicità, dagli investitori. Il mercato italiano è stato un mercato che è stato molto drogato dalla pubblicità, dagli inserzionisti. Ora è il momento in cui gli editori devono tornare a dialogare con il lettore e non con il finanziatore. Questa è una condizione necessaria. Dove si troveranno questi fondi? Si troveranno sicuramente da editori virtuosi e che credono nell'editoria. E dei segnali in questo senso in Italia ci sono. Il gruppo Fiat è impegnato nell'editoria. Urbano Cairo ha appena acquisito RCS. Un editore puro, un editore che fa editoria. E quindi dei segnali di interesse. Calcolate che per molti anni l'editoria, soprattutto alcuni gruppi, sono stati spezzettati tra un azionariato che aveva interessi al di fuori dell'editoria stessa. Questi anche sono elementi da considerare. Un editore che ama i giornali, potremmo però discutere fra un anno o due come vengono fatti la qualità di quei giornali. Ma sicuramente un editore che fa giornali è molto più interessato a quel prodotto rispetto a un industriale che fa tutt'altro. Gomme, pneumatici, stoffi o quant'altro. Quindi io non voglio essere positiva, d'oltranza, ottimista. Però un po' di ottimismo non guasta. E soprattutto partiamo da ciò che abbiamo e non da ciò che abbiamo. Clavarino prima diceva che i media italiani non ascoltano invece Al Jazeera. E al Jazeera tutti ci rimpagliamo un ascolto differente. Probabilmente la strada è ancora molto lunga, però gli esteri saranno la spina dorsale del giornalismo. Soprattutto di un giornalismo che dialoga in una rete che è globale, che non è locale. E anche perché un'altra riflessione che mi ero appuntata mentre parlavate è che i temi di cui abbiamo parlato, se ci pensate bene, guardando, poi conoscevo i lavori di Clavarino e della Zucca Lai, non conoscevo il mio, mi scuso quello vostro, conoscevo, l'avevo solo guardato velocemente. Le parole chiave di questi lavori sono delle parole che nel nostro giornalismo e nel nostro interesse quotidiano sono quasi ovvie. Acqua, sanità, energia, riciclaggio. Cioè sono delle keywords che riguardano l'interesse stesso della nostra vita, tra primo, secondo, terzo, quarto mondo. Quindi non stiamo parlando di cose che sono niente più è lontano, è tutto estremamente vicino e non è così alto. E con questo dovrà fare i conti il giornalismo, dovranno fare i conti le redazioni estere. Chiudo questo mio breve intervento con una nota che mi riferisco a quello che diceva Tommaso Clavarino prima. È vero che mancano le competenze in Italia per quanto riguarda il visual, visual desk, foto editor, eccetera. Siamo in un ritardo pazzesco. È un paese che ha dato una grandissima impronta a un giornalismo di parola. Siamo in ritardo. I foto editor nei giornali ci sono da pochissimi anni. Le competenze per diventare tali ci sono da pochissimi anni. E quasi sempre sono assolutamente improvvisate sulla buona volontà dei singoli. Se pensate che non c'è nessun visual desk, nessuno che può giudicare un video. E sulla fotografia un pochino è stato fatto, ma da pochissimi anni. Da dieci anni fa non c'erano i foto editor nei giornali, ce n'era uno o due. Nei quotidiani non c'è ancora. Sono state assunte giovani professionalità nell'ultimo anno alla stampa Repubblica. Quindi diciamo siamo con grandissimo ritardo. Ti faccio un'ultima domanda e poi magari lasciamo anche spazio dal pubblico se qualcuno vuole chiedere qualcosa. Secondo te che cosa può apportare l'approccio multimediale? Quali sono gli approcci che a te sembrano più interessanti? E che cosa cerchi quando ti arriva una proposta? Io personalmente, lavorando in un settimanale, in un mensile, purtroppo, dico purtroppo, non faccio i conti quotidianamente con questa offerta. Quindi faccio i conti con l'immagine fissa, con la fotografia, che è una cosa di cui mi occupo da moltissimi anni. E mi dispiace molto perché penso che ci sia un contributo fondamentale anche perché tutti i vostri lavori che ho visto e anche molti altri che vedo sono un patrimonio infinito di spunti, di ricchezza, di sapere, di dati. Cioè è una cosa estremamente sintetica, estremamente fruibile, per cui per me è una risorsa fondamentale del giornalismo. Non posso parlare in prima persona perché non lavoro al desk del Corriere della Sera e nemmeno alla Stampa e nemmeno a Repubblica e nemmeno, ahimè, al New York Times. Quindi non ho questa, diciamo, non riesco a calarmi in una figura che non sono. So cosa farei se lo fossi, so quanto sarei affamata di questi contenuti, so quanto mi piacerebbe produrli, ad esempio, o partecipare alle produzioni di progetti, o lavorare a produzioni europee creando un network di giornali, creando network con i journalist grant piuttosto che con delle fondazioni o delle NGO. Io penso che ci siano moltissime strade, non solo per fruire sottopagando dei lavori mastodontici che voi fate sulla vostra iniziativa e con dei supporti esterni, ma penso che sia necessario, etico e giusto, sacrosanto, partecipare e partecipare anche al processo produttivo, perché le risorse all'interno delle redazioni dei giornali sono straordinarie, anche le competenze sono straordinarie. Quindi credo che potrebbe arricchire tutti quanti. Penso che porterà tanto anche perché noi dobbiamo fare i conti sul contenuto scelto. Ci sono due elementi. È un dato dell'altro giorno, lo guardavamo oggi in treno con Emanuela. La pubblicità sul mobile è aumentata dall'anno scorso del 130%, è calata del 10% quella sulla carta. Quindi i contenuti che andiamo a vedere sul nostro mobile sono indispensabili per sostenere tutto quell'apparato. Quindi quell'apparato informativo che diventa la prima cosa che facciamo quando ci svegliamo e guardiamo sul telefono le notizie e viaggiamo dentro le notizie, mi sembra indispensabile. Grazie mille per una parola di ottimismo. Se qualcuno di voi ha qualche domanda, abbiamo ancora 5-10 minuti. 5, 5, 5, ok. Allora, sarò velocissimo. Intanto complimenti per i lavori davvero notevoli. Due domande velocissime. Una, dato che tutti avete rimarcato il fatto che se non fosse stato per i grants che avete vinto non avreste probabilmente mai visto pubblicati o mai visti retribuiti bene i vostri lavori, vi chiedo, si vive di soli grants? Cioè voi avete un modello che vi permette ogni tanto di partecipare a queste cose e di fare, tra virgolette, per diletto, anche se ovviamente avrete dei ricavi, però sono dei lavori talmente notevoli che uno dice si vive di solo grant, pensate di andare avanti così, di vincerne tanti altri, avete un modello del genere e poi, dato il gran lavoro che avete fatto, qual è stata l'importanza della pre-ricerca nei vostri lavori? Nel senso che i grants alla fine credo che la maggior parte si vincano prima di realizzare l'inchiesta e quindi qual è stato l'investimento in termini di tempo e magari anche in termini di risorse per poi vincere il grant e realizzarlo. Grazie. Ok, proviamo a rispondere alle Facebook così ognuno dice una sua opinione. No, non si vive di soli grant, si fa anche altro, però i grant ti permettono di fare questo a livello professionale, cioè questo non è un hobby, noi comunque lo facciamo come lavoro questo. Sicuramente non è l'unica cosa. L'altro discorso è che i grant chiaramente sono discontinui, per cui non è automatico che tu sia in grado di sviluppare un percorso che sia continuativo e approfondito. Rispetto alla tua seconda domanda, io nel mio caso conoscevo già il territorio e ho già stato in America Latina, per cui l'idea di questi due lavori è nata lì, in loco, entrando a contatto con le storie e con le persone e quella è stata la nostra ricerca di base ed è molto importante questo nel momento in cui si fa una proposta soprattutto per ottenere migliaia di euro di finanziamento che è il costo di questi lavori. Vai. Grazie. 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 Per quanto riguarda la ricerca, sicuramente bisogna fare ricerca per scrivere un progetto. i grant si vincono su progetti iscritti, non per lo più progetti ex novo in questo caso, per cui almeno nel mio caso sia in questo progetto che in quello che avevo fatto nel 2015 avevo fatto un lavoro di ricerca che era durato tra i tre e i quattro mesi per tutte e due, per poter scrivere poi il progetto. Io sono la più vecchia freelance qua, resisto da freelance da 19 anni e no, non si vive di soli grant ovviamente, bisogna differenziare moltissimo la propria attività, poi oltre ai grant insomma si possono trovare dei finanziamenti anche diversi, io ho fatto tante cose con varie ONG per esempio e con l'Unione Europea, cioè bisogna trovare strade diverse. Per quanto riguarda le mutilazioni genitali, erano tantissimi anni che ci lavoravo, ho fatto articoli in Kenya, conoscevo già la situazione, ero già stata e quindi probabilmente l'abbiamo vinto per quello perché la scrittura del progetto è stata molto semplice, però si deve avere un'idea molto forte, ricerche già fatte e soprattutto devi già, devi inserire l'idea dentro il format, cioè devi già far capire che tipo di format, non è che dici una bella idea e poi ci appiccico un web doc, cioè deve essere una cosa pensata in maniera interattiva proprio a monte. Ok, e se ci date un attimo la linea del computer, se qualcuno di voi è interessato, lì potete vedere i link dove potete recuperare i nostri lavori, forse non sono il massimo della leggibilità ma sono molto lunghi, o in alternativa i contatti social media, Facebook e Twitter attraverso cui potete recuperarli. Io vorrei solamente aggiungere un'ultima cosa, è vero quello che si diceva, chiaramente non si vive di soli grant, però io devo ancora capire esattamente come ci si fa ad occupare di esteri sul campo senza essere freelance oggi e questa è un po' la mia considerazione personale. Grazie a voi per essere intervenuti e grazie a voi per essere venuti ad ascoltare il nostro panel e buona continuazione con il Festival del giornalismo. Grazie.